Buon pomeriggio a tutte e a tutti, benvenuti, benvenute. Devo dire che in genere negli appuntamenti di finanza prevale il grigio, e invece benvenute e benvenuti oggi pomeriggio ha un senso, perché invece vedo tanti colori davanti a me, tanti colori in platea, e questo è anche in linea con la filosofia e la prassi, credo, di Human Foundation, che è diretta da una donna e dove lavorano tantissime donne. Oh, a proposito, visto che siamo in argomento di genere, vorrei tendere a rassicurare, e voi tutti e in parte anche me stesso, non sono Sara Varetto, mi chiamo più modestamente Dario Laruffa, ma come accade nei nostri lavori, i direttori, Sara Varetto, hanno degli impegni diversi e quindi, modestamente, eccoci qui a cominciare questo discorso, che in realtà abbiamo quattro ore, per smentire quello che sto dicendo, potrebbe essere basato su uno simoro, finanza sociale, una contraddizione in termini. Non è così e abbiamo quattro ore di tempo e un programma fitto-fitto per dimostrare il contrario. E allora, chiamiamo subito per aprire questi lavori Massimo Egidi, che è il rettore della LUIS, il mio rettore. Tra l'altro, approfittando del momento, rettore, prego, vi dico anche che la LUIS ha un nuovo direttore generale che si chiama Giovanni Lo Storto, buon lavoro direttore. Rettore. Parli dal podio rettoriale, prego. Sì, non è tanto un podio rettoriale, è un podio come tutti gli altri. Va bene, parli da un podio come tutti gli altri. Allora, benvenuti a tutti, è veramente un gran piacere poter ospitare qui questa occasione importante. Human Inspiring è già una bella idea per poter uscire da, diciamo, riaprire un discorso assolutamente importante sul carattere sociale delle relazioni finanziarie, se si vuole dare quel carattere sociale. Noi usciamo da un periodo di grave crisi finanziaria che è iniziato nel 2009 e che ha lasciato delle conseguenze molto pesanti e nel quale non siamo ancora riusciti a trovare un sistema di regolazione internazionale che ci permetta di garantirci che nel futuro non si ripetano simili situazioni. Ma, nello stesso tempo, in questa situazione gli effetti sono stati molto negativi. Povertà, situazioni di depressione delle persone, disoccupazione, tutta una serie di effetti sui quali c'è bisogno di pensare in modo alto perché non possiamo pensare che la crisi finanziaria sia come una tempesta fisica. È un prodotto degli esseri umani e quindi gli esseri umani ne hanno la responsabilità di ragionare per correggere ciò che accade in queste situazioni. Quindi, credo che è particolarmente importante quello che oggi inizia, questa discussione di oggi. Mi pare sia il secondo anno che state sviluppando questo tipo di attività perché non è detto e non è vero che nel mondo dell'economia e della finanza tutto sia fatto per il self-interest, che tutto venga gestito per il puro egoismo personale. E tutti noi non possiamo non accorgerci che abbiamo una forte relazione di interdipendenza economica, finanziaria, personale nella quale gli effetti di quello che facciamo possono essere negativi nei confronti degli altri individui. Forse Adam Smith non sarebbe contento se sentisse queste parole in questi termini. La correggerebbe forse dicendo che in realtà noi ci muoviamo facendo il proprio interesse ma questo non implica un danneggiamento degli altri. Dopo più di cento anni da quando fu scritta la Ricchezza delle Nazioni abbiamo capito che ci sono molte situazioni in realtà che hanno questa natura e che quindi richiedono delle correzioni. La natura di questo viene chiamata da noi economisti le esternalità negative. Noi non possiamo ignorare le esternalità negative il fatto che una grande impresa come una piccola impresa crescendo e producendo del benessere possono creare degli effetti esterni anche negativi di tipo economico o di tipo ambientale o entrambi. Poter affrontare questo tema aprire verso un nuovo modo di agire rendere quindi per esempio i bilanci di un'impresa aperti al bilancio sociale quindi far comprendere come gli effetti di queste azioni abbiano un impatto esterno che si può correggere si può valutare anche quando non è positivo questo è il passo avanti che credo stia alla base dell'incontro di oggi e sul quale noi come LUIS abbiamo un forte impegno anche di università. Noi stessi credo che riusciremo in tempi ragionevoli a fare appunto un ragionevole bilancio sociale per capire quali sono gli impatti esterni che noi produciamo e come correggere ciò che potrebbe non funzionare. Io voglio soltanto dire che questo è essenziale soprattutto non solo per i paesi poveri perché su questo non si discute ma anche per appunto gli effetti che ha avuto la crisi nei paesi avanzati come il nostro nel quale la disuguaglianza sociale è cresciuta troppo. Uno Stato, una nazione, un insieme di nazioni non possono sopravvivere se c'è troppa incertezza negli individui che la compongono. Gli individui non possono vivere al di sopra di un grado eccessivo di impossibilità di pianificare i giovani soprattutto di pianificare la propria vita di sapere qual è il loro futuro. Quindi tutto questo è anche compito di chi oggi ragionerà attorno a questi temi. Per questo per noi è benvenuto e per questo siamo stati molto lieti e molto felici di potervi ospitare qui. approfitto per ringraziare quindi per concludere e darvi i miei migliori auguri per ringraziare il Presidente della Human Foundation Giovanna Melandri e il Professor Held che sarà credo il keynote speaker insieme ad altri importanti ed illustri presenti che vedono le prime file. Buon lavoro a tutti e grazie. Grazie a Massimo Egidi due passaggi al volo li ricordo e li propongo alla vostra riflessione uno che è anche di impegno come correggere i nostri impatti esterni gli impatti esterni del nostro agire del nostro lavorare come università come istituzioni e poi un altro passaggio che mi sembra il miglior modo per introdurre Giovanna Melandri dice il Professor Egidi la crisi finanziaria non è una tempesta fisica è figlia di azioni e aggiungo io anche di errori di uomini e Giovanna Melandri parlerà esattamente di questo di errori e di azioni per superare questi errori siamo al secondo anno cioè compie un anno sostanzialmente in termini di impegno un po' di più in termini di convegni un anno Human Foundation allora eccola qua Giovanna Melandri Presidente allora siccome l'essere moderatore non necessariamente nel mio caso mai corrisponde con l'essere moderato ho dimenticato il passaggio istituzionale centrale della che mi affretto dopo occhiataccia del Presidente a invece a proporvi no guardate è una cosa seria mea culpa mea culpa allora siccome non fa perché noi siamo onoratissimi di ciò che tu stai ora che è semplicemente e non semplicemente ampiamente siccome stavo per dire che insomma il nostro Presidente della Repubblica in genere è anzi sempre un uomo di sostanza non solo di forma pur essendo ricoprendo la massima carica formale della nostra Repubblica il Presidente ci ha fatto affa non ci ha affatto arrivare un saluto è molto rapido mi onoro di leggervelo prima di far parlare Giovanna Melandri gentile Presidente Presidente Melandri ho ricevuto la sua cortese lettera la ringrazio dell'invito a prendere parte al secondo meeting annuale che si terrà il prossimo 8 ottobre alla LUIS di Roma purtroppo proprio in quei giorni sarò impegnato in un viaggio all'estero e non potrò partecipare all'incontro intendo tuttavia esprimerle il mio apprezzamento per l'impegno che la fondazione da lei preseduta ha espresso in questo primo anno di attività in fecondo rapporto con analoghe istituzioni di altri paesi in particolare va sottolineata all'attenzione dedicata alla promozione degli investimenti ad impatto sociale una peculiare forma di intervento del settore privato in una nuova dimensione di politiche sociali augurandomi che dal vostro dibattito emergano stimoli idee proposte per promuovere in questa difficile crisi economica e sociale forme innovative e sostenibili del sistema del welfare italiano invio a lei agli illustri relatori a tutti i partecipanti all'incontro i più cordiali saluti e un sincero augurio di buon lavoro Giorgio Napolitano dice il presidente in fecondo rapporto con analoghe istituzioni di altri paesi che è una delle caratteristiche di Human no? o no? si esatto grazie ma intanto grazie a tutti e a tutte di essere qui io devo raccontare Human in pochi minuti ma da Federico Mento che è il nostro grande coordinatore del team dei ragazzi di Human un antropologo che una volta per descriverci ha citato il libro di un antropologo James Clifford che si intitola I frutti puri impazziscono non è una ricerca sui disturbi del comportamento della frutta ma è un'indagine che contrastando le visioni statiche della società esalta la natura ibrida delle culture beh Human è qualcosa di meticcio che lega insieme persone molto diverse con storie personali e professionali anche molto diverse molti di loro sono qui oggi e li voglio ringraziare fatemeli ringraziare subito per questo primo anno di Cammino Insieme Roberto Galimberti Marco Pinciroli Enzo Donnamaria Rodolfo Fracassi Umberto Bussolati Stefano Bravo Sebastiano Maffettone il nostro coordinatore del nostro advisory board questa è la è la clac degli studenti Giuliano Amato che ha preseduto il nostro advisory board fino a qualche giorno fa e a cui vanno i nostri migliori auguri per l'incarico alla corte costituzionale Human non esisterebbe senza questo gruppo di persone che ormai circa tre anni fa si è interrogato sul futuro del paese e senza il sostegno dei nostri ambassadors hanno creduto in noi quando ancora non c'eravamo e davvero li voglio ringraziare tutti di cuore e poi naturalmente devo concludere i ringraziamenti iniziali ringraziando il nostro magnifico team ragazzi pieni di passione e voglia di futuro direi che è a loro che dobbiamo dedicare il lavoro di Human la malta che tiene insieme questo gruppo di persone è un'idea un'idea che si sta facendo strada in luoghi differenti la direi così esiste una terra di mezzo tra profit e non profit che nasce sulle macerie di tante certezze e ideologie del secolo passato sulle macerie lasciate da un turbo capitalismo finanziario a cui si riferiva anche il rettore Pocanzi ma anche sulle macerie di uno stato sociale drammaticamente inadeguato si tratta di una realtà composita che coinvolge il privato e il pubblico e che non esclude il profitto ma lo considera strumento per realizzare finalità umane e sociali così ha scritto nell'enciclica Caritas in Veritate Benedetto XVI una terra di mezzo che emerge tra i fallimenti di una finanza disancorata dalla produzione di valore e una spesa pubblica inefficiente una terra di mezzo nella quale possiamo trovare noi crediamo uno degli antidoti ad una pericolosa minaccia alla democrazia moderna la disoccupazione giovanile un luogo dove si sviluppano pratiche sociali che generano condivisione cultura cittadinanza dignità perfino bellezza e sicuramente occupazione poi tornerò su qualche dato valori umani non sempre monetizzabili e che tuttavia hanno bisogno di finanza di capitali di una nuova venture philanthropy qualcuno sobbalza sentendo questa parola che a livello immaginario ci rimanda al gesto caritatevole dei potenti una delle prime tracce dell'uso del termine filantropia la troviamo nel prometeo incatenato di Eschilo a prometeo colui che comprende prima venne inflitto un castigo senza fine per aver rubato il fuoco e averlo donato agli uomini pensate un'innovazione fondamentale nello sviluppo delle società umane è frutto di un gesto filantropico assai controverso ma di che doni abbiamo bisogno oggi il gesto filantropico non può più limitarsi a lenire ingiustizie disuguaglianze piuttosto deve contribuire a superare strutturalmente questi limiti per trasformarsi in un modello di innovazione sociale c'è un movimento globale che sta pensando tutto ciò noi di Human ne vogliamo fare parte e l'attuale generazione di innovatori filantropi come prometeo non ha timore di andare a rubare il fuoco nella casa degli dei di oggi non ha paura di intrufolarsi nelle stanze della finanza scelta cercando di trafugare alcuni dei suoi strumenti e piegarli alla ragione della condivisione e dell'innovazione sociale grandi sono stati i danni provocati dagli appetiti predatori della finanza globale quella dei fondi avvoltoio dei titoli tossici delle speculazioni sui disastri collettivi dell'Argentina del 2001 della Grecia di oggi queste nostre riflessioni nascono proprio dal periodo in cui viviamo la più grande e complessa crisi finanziaria degli ultimi decenni ma c'è anche un'altra finanza si sta facendo strada quella che Jacques Attali che ci onora assieme a John Podesta che saluto e che è qui con noi oggi a tanti e tanti altri di essere parte del nostro advisory board chiama Jacques Attali l'economia positiva dove trova spazio una finanza generativa che genera valore perché si lega ad altro valore siamo a un bivio che ricorda le difficoltà del capitalismo di fine ottocento quando esplosero le contraddizioni tra l'accumulazione della ricchezza e le condizioni di vita dei lavoratori allora l'Italia fu pioniere nella costruzione di strumenti nuovi con le prime esperienze torno un po' indietro nella storia ma qualche volta non fa male guardare che cos'era il nostro paese con le prime esperienze ottocentesche delle società operaie e contadine di mutuo soccorso le casse rurali oggi è il momento del microcredito delle banche etiche dell'impact investing della venture philanthropy i moderni strumenti della finanza sociale che creano un ponte comunque tra risorse e necessità per rispondere alle emergenze sociali incorporando anche i principi del rendimento economico il mondo cooperativo la cui storia si intreccia un po' d'acqua con i grandi movimenti popolari del secolo scorso non è stato forse una delle espressioni migliori dell'impresa sociale nel nostro paese in Italia sono state il cuore di un modello inclusivo guidato dall'idea che il raggiungimento del benessere potesse essere intimamente legato a quello della qualità sociale del lavoro grazie malgrado questa storia importante nell'ultimo decennio alcuni paesi malgrado questa storia importante nostra della storia delle radici del cooperativismo sociale negli ultimi decenni alcuni paesi come il Regno Unito sono scappati avanti consentitemi questo gergo ciclistico sono andati in fuga sul terreno dell'innovazione io sono convinta con Human siamo convinti che sapremo con il giusto colpo di pedale riportarci nelle prime posizioni il senso di questa giornata è anche quello di raccogliere attorno ai temi dell'innovazione sociale tutti coloro che avvertono queste urgenze e per questo vi propongo di ragionare attorno a due strumenti molto concreti della finanza sociale innanzitutto l'impact investment o investimenti ad impatto che sono pensati per generare un impatto sociale ambientale misurabile e positivo garantendo allo stesso tempo un ritorno finanziario alcuni dicono low profit sia nei mercati emergenti che in contesti avanzati bisogna però sbrigarsi questo è un nuovo mercato di capitali che si sta sviluppando nel mondo e noi non possiamo stare a guardare parleremo in una delle tavole rotonde delle applicazioni concrete dell'impact investment per favorire l'accesso all'energia uno dei problemi più drammatici dell'inuguaglianza sociale oggi più di un miliardo di esseri umani oggi sono esclusi dall'accesso all'energia elettrica costretti a spendere la metà del proprio reddito per alimentarsi illuminare la propria casa riscaldarsi se consideriamo anche coloro che hanno un accesso parziale all'energia superiamo i 3 miliardi di persone che adottano spesso soluzioni inquinanti inefficienti nocive pensate all'uso della lampada a cherosene in tanta parte dell'Africa subsahariana provate a pensare quali dimensioni raggiunge questo problema in Africa con il suo miliardo di abitanti che cresce a una velocità incredibile tanto da prevederne tra pochi decenni con proiezione attorno ai 4 miliardi nel 2100 donne e uomini che spinti dalle inaccettabili condizioni di vita cercano un futuro dall'altra parte del mare un viaggio in molti casi tragico come quello di qualche giorno fa a queste donne e uomini abbiamo il dovere di dare delle risposte pensare nuovi sentieri per lo sviluppo fuori dagli schemi classici che non hanno funzionato stretti tra un capitalismo predatorio e le politiche degli aiuti che talvolta uccidono come ha scritto D'Ambisa Moio qualche tempo fa abbiamo bisogno di una nuova stagione dello sviluppo per superare le disuguaglianze di questo ci parlerà il professor David Held che ringrazio moltissimo di essere qui con noi oggi l'accesso all'energia è una delle chiavi e anche la finanza sociale i social impact funds stanno lavorando per questo finanziano piccole medie imprese con l'obiettivo di fornire l'energia elettrica alle comunità più povere nelle aree rurali più difficili da raggiungere certo questi fondi impact sono ancora una goccia nell'oceano del grande mare della finanza internazionale ma questi fondi che fino a pochi anni fa e questa è la buona notizia si contavano davvero sulle dita di una mano oggi sono centinaia e fanno parte di una rete la GIN la Global Impact Investment Network è un movimento globale che secondo alcune stiglie stime oggi gestisce 15 miliardi di dollari e tra dieci anni potrebbe gestirne 500 una rete di cui Human fa parte promossa dalla fondazione Rockefeller nel 2007 che è la principale organizzazione che opera per accrescere il volume e l'efficacia dell'impact investment il secondo strumento concreto di cui vorremmo parlare vi oggi sono i social bond guardate non si scappa quale welfare lasceremo in ereditale nuove generazioni i social bond sono un esempio concreto di come si possono costruire interventi in cui il pubblico mantiene ruolo di indirizzo e controllo delle politiche e il privato contribuisce finanziariamente a costruire interventi nel sociale un recente studio stima un gap tra la domanda di servizi di welfare e l'effettiva disponibilità di risorse pubbliche nel 2025 di circa 100 miliardi di dollari in Francia 80 in Germania 30 in Italia 170 nel Regno Unito 940 negli Stati Uniti si fa sempre più pressante l'esigenza di individuare e indirizzare capitali privati verso investimenti che garantiscano un ritorno sociale oltre che finanziario con i Sib i social bond si capovolge l'approccio lo Stato paga a obiettivo raggiunto e il privato investe risorse scommettendo nel risparmio nella spesa pubblica che l'intervento sociale può generare geniale gli attori sono cinque una pubblica amministrazione i fornitori di un servizio sociale degli investitori un intermediario specializzato nell'emissione dell'obbligazione e nella raccolta del capitale un soggetto indipendente incaricato della valutazione del raggiungimento del risultato finale e del suo impatto i Sib chiamati in America da Obama pay for success bonds nei Sib la remunerazione del capitale investito è legata al raggiungimento del risultato sociale e il rischio finanziario viene ripartito tra pubblico e privato se l'obiettivo sociale viene raggiunto lo Stato ottiene un risparmio e può impiegarlo per remunerare gli investitori l'idea alla base di questi prodotti di finanza sociale è che occorra uscire da una costante emergenza dando spazio invece a progetti di prevenzioni che siano più incisivi rispetto ad interventi correttivi nella seconda tavola rotonda di oggi parleremo di come i bonds possono offrire una soluzione concreta ad un tema complesso quale il reinserimento sociale dei detenuti in Italia in questi giorni si è riparlato di amnestia l'emergenza carceri è scottante per questo abbiamo chiesto agli amici di social finance che saluto e ringrazio di essere qui con noi oggi di venire a raccontarci l'esperienza pilota di Peterborough nato su iniziativa del ministero della giustizia inglese nel 2010 ne parleremo più avanti e verificheremo assieme la replicabilità di un modello del genere e siamo molto contenti che a discuterne con noi più tardi ci sia anche il ministro della giustizia cancellieri insomma Human vuole offrire il suo contributo di idee e di progetti alla costruzione di un'agenda per l'innovazione sociale in Italia che è necessariamente innovazione finanziaria giuridica istituzionale nell'ultima tavola rotonda rifletteremo su come generare una strategia per l'occupazione nell'economia sociale italiana nel luglio scorso Enzo Manes che è qui con noi oggi saluto ha lanciato un sasso nello stagno un imprenditore sociale oltre che un imprenditore ha immaginato che attraverso una tassa di scopo si potesse finanziare una sorta di iri delle imprese sociali si è aperto un dibattito importante vi dico quello che penso io personalmente ritengo che serva più che un fondo una banca di investimenti sociali ritengo che sia arrivato il momento di costruire la nostra big society capital in Italia se qualcuno teme un approccio conservatore o una possibile riduzione del perimetro del welfare chiamiamola good society e mettiamoci una pietra sopra ma facciamola chiamiamola come vogliamo ma facciamola anche per questo sarà molto interessante ascoltare tra poco Sir Ronald Cohen il papà il padre di big society capital nata sotto il governo Blair e oggi proseguita dall'amministrazione Cameron il percorso intrapreso nel Regno Unito può essere un modello non tanto nei singoli strumenti abbiamo storie strutture normative giuridiche istituzionali troppo diverse quanto nell'idea di intervenire con un approccio olistico complessivo per costruire un ecosistema favorevole all'innovazione e alla finanza sociale una banca di investimento sociale dedicata non interventi episodici per creare un vero e proprio mercato con strumenti e intermediari capaci di mettere a frutto le risorse finanziarie investite una banca di investimento sociale che nasca con un cuore pubblico ma che sappia attrarre e far sistema con capitali privati insomma noi di Human pensiamo che sia arrivato il momento di Big Society Italy perché perché il terzo settore in Italia è una realtà importante è importante a livello sociale per il sostegno delle fasce di popolazione più vulnerabili a livello economico per la sua capacità diretta e indiretta di creare occupazione e valore aggiunto lo sapete che parliamo ancora oggi nei giorni della crisi di 67 miliardi di euro oltre il 4,5% del PIL nazionale 235 mila organizzazioni non profit 488 mila lavoratori oltre 4 milioni di volontari uno dei pochi settori in crescita per numero di occupati nonostante la crisi naturalmente ci sono anche i problemi li conosciamo bene un sistema polverizzato eccessivamente ecco il punto dipendente dalle risorse pubbliche dal convenzionamento con le risorse pubbliche che oggi sono sempre meno e dunque sono a repentaglio non solo le organizzazioni e gli operatori ma anche coloro che beneficiano di tali servizi e l'economia nel suo complesso c'è il rischio serio per la coesione sociale il ruolo di Big Society Italy di questa banca di investimenti per il sociale potrebbe essere quello vado per punti di facilitare la creazione e la crescita di imprese sociali di dotarle di capitale di rischio necessario per cominciare a espandere la propria attività creare un mercato dei capitali capaci di servire queste imprese parlare la loro lingua sviluppare la diffusione di intermediari specializzati che sappiano creare negoziare trattare tali strumenti è una sfida nella quale si può decidere di essere placidi spettatori oppure parte attiva di questi cambiamenti noi di Human siamo convinti di questo dobbiamo riversare la nostra storia nazionale in un nuovo movimento globale ed è una sfida anche alla luce della presenza oggi qui di tre autorevoli membri dell'esecutivo che vogliamo offrire al governo Letta a partire dal primo passaggio da affrontare che è l'ineadeguatezza della legge sull'impresa sociale che non abbia funzionato la 155 lo dimostrano le poche centinaia di imprese nate dopo l'approvazione della 155 nei prossimi anni l'Europa attraverso i fondi europei per l'imprenditoria sociale sosterrà questo settore ma l'attuale architettura giuridica risulta poco appetibile per gli investimenti e questo flusso di denaro potrebbe spostarsi altrove di treni ne abbiamo davvero visti passare molti sarebbe il caso questa volta di non arrivare in ritardo mi rivolgo idealmente al ministro Giovannini che sarà qui con noi tra poco c'è una proposta presentata da Vita Make a Change e altri tra cui anche Human per inserire già nella legge di stabilità un primo superamento della 155 e se posso segnalare anche un'altra urgenza va sciolto il nodo dell'IVA per le cooperative sociali che rischia di passare dal 4 al 10 e estendere anche a loro i benefici concessi alle start-up sociali insomma in questo primo anno di vita di Human siamo andati dove si discutono questi temi al decennale dello Skoll World Forum alla social business conference a Lugano con Yunus a Madrid con l'ex presidente Clinton all'appuntamento europeo sugli investimenti impact a Lugano ma soprattutto voglio raccontarvi che proprio quest'anno il premier Cameron presidente di turno del G8 ha lanciato il primo social impact investment forum che ha riunito rappresentanti delle istituzioni della filantropia della finanza delle imprese per discutere delle potenzialità dell'investimento e impatto sociale ne è nata una task force di cui Human fa parte guidata da Sir Ronald Cohen ispiratore del forum che tra pochi minuti si collegherà con noi la prima riunione si è svolta pochi giorni fa a Washington dove Obama ha da poco istituito l'Office of Social Innovation and Civic Participation sarà interessante lo ringraziamo ancora moltissimo per essere qui con noi sentire John Podesta sull'esperienza americana ancora due parole conclusive sul nostro lavoro c'è un'altra pista che abbiamo cominciato a praticare favorire l'incontro tra le migliori imprese e le imprese sociali migliori noi di Human vorremmo accelerare questo incontro ce lo siamo già detti un anno fa che ha bisogno di progetti di metriche di linguaggi condivisi di rispetto per gli imprenditori che devono essere competitivi e generare profitto ma anche per gli altri imprenditori quelli che producono coesione sociale senza la quale una comunità muore oggi a pochi metri da qui è nel cuore ha festeggiato il suo decennio e credo che questo tema della responsabilità sociale d'impresa sia un tema che attraversi oggi tutta la comunità produttiva italiana condividere valore è uno di quei grandi temi che il sistema produttivo sta affrontando non basta più avere conti in ordine per essere un'impresa virtuosa e non è casuale che la ricerca del valore sociale sia una risposta alla crisi più difficile che il capitalismo abbia mai affrontato proprio qui ce lo ricordava Sebastiano Maffettone qualche tempo fa il premio proprio qui in questa sala il premio Nobel Joseph Stiglitz ha detto che il 2008 è stato per il capitalismo quello che l'89 fu per il comunismo siamo tutti alla ricerca di nuove strade ed è di grande interesse la nuova geografia che si sta configurando uno spettro ampio di esperienze che cambiano la relazione tra generazione di profitto e condivisione di valore imprese orientate alla responsabilità sociale Benefit o B Corp imprese low profit social business imprese junussiane noi abbiamo cercato di costruire ponti l'anno scorso grazie a Francesco Starace abbiamo faciché qui con noi oggi a discutere dell'utilizzo dei social impact funds nell'accesso all'energia abbiamo facilitato l'incontro tra Enel Green Power e Banker Roy che con il Barefoot College da lui fondato in India insegna alle donne in tutto il mondo dei villaggi rurali a diventare Solar Mamas nonne solari ingegneri solari capaci di padronizzare le tecnologie grazie a questo legame virtuoso il progetto di Barefoot è arrivato in America Latina grazie a un'azienda italiana e proprio pochi giorni fa è stato insignito del premio Clinton poi per il 2013 Human ha deciso di concentrarsi in Italia e per l'Italia abbiamo incontrato tanti operatori sociali e con molti stiamo cominciando delle strade una strada assieme non li posso citare tutti sono esperienze molto diverse ne cito qualcuno mi perdoneranno gli altri da Jonas la rete di psicanalisti che lavora nel sociale che si fa trovare là dove il disagio giovanile si fa più duro a un incubatore di imprese come Mag che sostiene l'impresa sociale a Libera con il suo prezioso lavoro al consorso Giotto che sentiremo oggi più tardi abbiamo creato alcuni progetti uno lo voglio ricordare è una connessione virtuosa tra un settore importante come quello della moda e un'impresa sociale impresa sociale d'eccellenza della Locride Goel Vincenzo Rinarello è oggi qui con noi e ci racconterà più tardi Cangiari che in calabrese nell'idioma calabrese significa cambiare un marco di moda eco etico sociale in uno dei settori più difficili del nostro paese la Locride abbiamo poi deciso di lanciare con Prismian un premio di tesi sulle tecnologie per l'innovazione sociale il bando uscirà tra pochi giorni e nel prossimo annual meeting conferiremo il premio il nostro modello è l'impresa sociale credo che ormai questo sia chiaro e per questo forse la cosa più importante a cui abbiamo allacremente lavorato nel nostro primo anno di vita è stata la costruzione di Muse concludo su questo un master per l'imprenditoria sociale promosso insieme alla fondazione Vodafone e a Digital Academy che risponde al fabbisogno di rinnovamento e di sviluppo delle imprese sociali italiane incrementando nella carica innovativa la professionalità soprattutto di giovani destinati ad essere gli imprenditori sociali del futuro oggi voglio ringraziare vogliamo ringraziare davvero di cuore in primis la LUIS che ci ospita la Cattolica il Politecnico di Milano la sapienza che sono in questa avventura con noi garantisco non è facile vedere in Italia quattro università collaborare insieme ad un progetto comune ce l'abbiamo fatta veramente grazie il primo master sarà diretto dal professor Molteni inizierà nel marzo del 2014 ecco alla fine del primo anno eccoci qui con Human il nostro logo che deriva dai Moai dell'isola di Pasqua augurio di prosperità e benessere di cui abbiamo davvero tutti bisogno in tanti stiamo camminando nella stessa direzione chi attraverso la finanza sociale chi con il crowdfunding chi nella cooperazione sociale chi attraverso la green la digital la social economy l'imprenditore sociale del futuro sarà allo stesso tempo un po' Richard Branson un po' madre Teresa di Calcutta non so se nei prossimi anni noi assomiglieremo più all'uno all'altro ma siamo in cammino e non ci stanchiamo di cercare l'anno scorso conclusi dicendo che non era tardi citando un bellissimo proverbio africano per piantare l'albero dell'innovazione sociale quest'anno vorrei fare mie le parole di una grande poetessa Alda Merini per dirvi e così raccontare anche il senso di questo logo che abbiamo scelto per questa giornata per dirvi con le sue parole che ci sono betulle che di notte levano le loro radici e tu non crederesti mai che di notte gli alberi camminano o diventano sogni grazie con il cuore e con la testa Giovanna Melandi racconta i progetti concreti di Human in quest'ultimo anno racconta disegna una Human che è qualcosa di meticcio la cito una terra di mezzo che non esclude il profitto l'incontro del meglio fra imprese e coesone sociali vi sto rileggendo rapidissimamente i miei appunti parla di investimenti e delinea investimenti a impatto sociale a basso profitto che poi non sono una cosa piccola perché ricorda potrebbero arrivare presto a livello mondiale a 500 miliardi di dollari un passaggio investimenti perché qualcuno dice le politiche degli aiuti a volte uccidono e potrebbero per esempio fondi come questi aiutare 3 miliardi di persone che nel mondo hanno un accesso o nullo o molto basso all'economia proposte all'energia scusate in particolare all'energia elettrica proposte concrete i social bond le obbligazioni sociali la nascita in Italia di una banca di investimenti pubblici di investimenti sociali con cuore pubblico e capitale privato date le difficoltà della finanza pubblica nel nostro paese questi sono appunti vi chiederei una cosa a un certo momento c'è stata un'immagine nella quale c'era un atletico tennista e uno sdraiato voi in quale dei due vi siete immedesimati a incremento vorticoso del tasso estetico naturalmente e non solo estetico del profilo del moderatore signore e signori è arrivata Sara Pareto prego grazie a tutti grazie a tutti